Buongiorno a tutti io direi di iniziare eh il quarto d'ora accademico l'abbiamo rispettato per cui possiamo dare inizio a questo incontro e vi ringrazio per la partecipazione alcuni colleghi ci stanno raggiungendo eh oggi anche mercato quindi c'è qualche complicazione in più per parcheggiare ce ne scusiamo ma d'altronde esiste anche il mercato ed è una vivacità che le città come tutte le città eh come vedete insieme a me c'è il collega Nazareno Franquellucci non casualmente sono felice eh perché siamo Fano e Porto Sant'Elpidio sono le due capofila per la rete del progetto città delle bambine e degli adolescenti adesso non mi ricordo preciso che mi è abituato bambini e abbiamo che è una proposta ovviamente scattuisce da una legge regionale qui voglio ringraziare i consiglieri regionali Marta Ruggeri ehm Luca Serfilippi per la loro presenza la dirigente dottoressa Mazza eh che rappresenta dirigente del del garante che si scusa doveva essere qui con noi oggi ma ha avuto un contrattempo familiare dell'ultimo momento aveva dato l'adesione quindi non è una scusa eh è veramente un problema purtroppo ci sono anche questi e dobbiamo tenerne conto però ci teneva e c'è la dottoressa che rappresenterà e farà il suo eh intervento eh perché siamo insieme perché come giusto gli amministratori devono essere pragmatici eh darsi l'obiettivo di raggiungere le finalità per cui si sta lavorando allora invece di lavorare separatamente facendo iniziative abbiamo deciso lavoriamo insieme ottimizziamo le risorse le competenze le intelligenze ci scambiamo anche i percorsi per cui abbiamo pensato di fare questo primo momento a Fano poi sarà una seconda occasione che sarà organizzata a Porto Sant Sant'Elpidio però la finalità qual è che anche lo scopo della rete è quella di scambiarsi delle best pratiche del eh filosofia e del ehm dei contenuti del progetto città delle bambine dei eh bambini con l'idea che poi questo possa ovviamente chi aderisce crede nelle potenzialità eh del del progetto e di radicarsi sempre più nel nostro territorio regionale perché siamo convinti e di questo ehm lo tocchiamo con mano che questa progettualità ci porta veramente a ripensare le nostre città con un'ottica quella eh alzandoci all'altezza abbassandoci in termine non eh riduttivo all'altezza dei bambini eh per metterci all'altezza di tutti i cittadini eh significa ripensare rivedere riorganizzare il le proprie città per essere città accoglienti per eh per tutti eh devo dire per quello che riguarda Fano siamo quest'anno fra l'altro ricorre la trentannale della nascita il progetto Fano nasce nel millenovecento novantuno con alti e bassi eh qui fra l'altro salutiamo anche il professor Tonucci che ci sta seguendo eh che che dobbiamo noi dobbiamo ringraziarlo ogni ogni volta che interveniamo su questo argomento perché se oggi il progetto ha raggiunto eh così obiettivi così importanti il merito è delle sue intuizioni delle sue professionalità e delle sue capacità di far crescere di poi eh contaminare anche una rete internazionale anche se ci rimprovera spesso perché giustamente non si accontenta mai dei risultati che otteniamo e noi ne siamo contenti eh lo prendiamo come complimento perché ci stimola a fare cose cose nuove. Beh posso garantirvi che effettivamente è un progetto straordinario, è una forza straordinaria e come diciamo spesso anche insieme a Paola il Paola Stolfa eh che conoscete la coordinatrice del progetto Fanno città delle bambine e dei bambini non è un progetto per bambini è un progetto di città e questo è l'elemento chiare è un progetto urbanistico, un progetto sociale, è un progetto culturale, è un progetto educativo, ha tanti elementi e ripeto come dicevo prima con questione di causa possiamo dire che effettivamente si traduce in questo. Sono reduce, raccontavo prima Nazareno, da una tre giorni di Lione dove la città di Lione, terza città di Francia, ci ha chiamato perché vogliono applicare anche loro il modello del della città delle bambine e dei bambini in una città come Lione. Fra l'altro ha portato un contributo importante anche il professor Tenucci che era intervenuto prima di me. Fra l'altro è stato un momento internazionale, c'erano rappresentanze di tutta Europa e questo ci ha reso anche orgogliosi, però è la dimostrazione della forza che ha e mi hanno portato a vedere anche delle iniziative che nel frattempo leggendo i testi del professor Tenucci, leggendo anche ormai a distanza di migliaia di chilometri leggiamo cosa fanno, possiamo seguire l'attività degli altri, hanno visto anche alcune nostre attività, le hanno tradotte con alcune iniziative che mi hanno stupito, ho detto alcune volte gli allievi superano i maestri, però a dimostrazione della forza che questo ha. Quindi ecco, adesso poi io rinterverrò strada facendo, voleva essere così una presentazione, spiegare l'organizzazione della giornata dopo i brevissimi interventi nostri, ci sarà l'intervento il contributo del professor Tenucci e poi faremo una parte più, entriamo un focus su alcune nostre esperienze e interloquiamo e ragioniamo perché poi dobbiamo guardare anche gli esempi specifici per poterli poi tradurre e applicarli. Io mi fermo qua, cedo la parola a Nazareno Finquilucci, lo ringrazio per essere qui ma soprattutto per aver condiviso questo metodo di lavoro e anche per condividere, per aver condiviso l'importanza di questo progetto regionale. Allora, grazie e buongiorno a tutti, grandissimo ringraziamento, non posso che farlo a te Massimo per aver avuto l'idea, l'idea è stata la tua, di organizzare questi due momenti perché come giustamente dicevi saranno una pluralità di appuntamenti, questo oggi qui nella tua città e molto probabilmente a fine gennaio e primi di febbraio nella città di Porto Sant'Elpidio e con un principio tutto europeo, quello della reciprocità di scambiarci o comunque in qualche modo di far sì che questa potesse essere un'organizzazione nella quale ci potesse essere l'occasione intanto per stare insieme e quindi per ritrovarci da coordinatori di questa bella esperienza che insieme stiamo facendo da amministratori e poi immediatamente dopo dare comunque la possibilità di vivere e scambiare quelle che poi sono delle ottime strade, degli ottimi percorsi che entrambe le nostre comunità stanno facendo nel ruolo di coordinamento. Ringrazio in maniera particolare per la presenza anche la mia coordinatrice, la dottoressa Michela Tassotti e gli amministratori che sono venuti dalla parte del centro-sud delle Marche che hanno risposto al nostro invito e sono presenti qui perché comunque l'obiettivo della partecipazione a una rete come questa io credo debba essere sempre una partecipazione di tipo propositivo, di ascolto, di scambio di buone pratiche che permetta poi dopo sulla base delle caratteristiche che ogni comunità ha, perché comunque siamo una regione inevitabilmente plurale come lo sono tra l'altro tutte le regioni d'Italia e quindi all'interno delle varie comunità ci possono essere sensibilità diverse ma poi cercare di capire come all'interno delle nostre possano poi dopo essere portati e trasmessi alcune buone idee che leggiamo, ascoltiamo e come nel tuo caso Massimo hai avuto l'onore, ti faccio i complimenti, questo chiaramente ci gratifica e ci rende orgogliosi di questa nostra amicizia, di questo nostro rapporto anche all'estero dove per l'appunto in Francia qualche giorno fa hai avuto questa bellissima occasione e bellissima opportunità. In che momento svolgiamo questi focus di approfondimento? In un momento sicuramente molto particolare, particolare per noi amministratori, particolare per il nostro paese, ma forse ancora più particolari e delicati per la fascia di età per cui oggi tutti quanti noi siamo qui. Penso, l'abbiamo ripetuto in tantissime occasioni anche nei tavoli istituzionali, quelli Massimo che vivevamo nei momenti dell'emergenza più nera, più dura. Abbiamo parlato di tantissime cose, l'organizzazione dei tamponi, dei vaccini, della gestione della sicurezza, della salute, dei posti letto eccetera eccetera. Se vi ricordate c'è stato un momento, soprattutto iniziale, dell'emergenza pandemica nel quale la problematica legata ai più piccoli, alle scuole, alla gestione dell'adolescenza era praticamente un tema totalmente non trattato, sia da parte della politica a livello nazionale che anche contestualmente a cascata da noi, che eravamo comunque inevitabilmente catapultati in un'emergenza che nessuno si sarebbe mai potuto aspettare di vivere. In maniera particolare, ricordiamo tutti molto bene come la parte legata a come riprendere le attività scolastiche fu trattata tardissimo di fatto e quasi gli ultimi giorni ancora rincorravamo gli spazi, le panze eccetera eccetera e poi purtroppo ce lo ricordiamo tutti ancora una volta didattica a distanza eccetera eccetera. Ecco, auguriamoci che finalmente stiamo andando in mezzo chiaramente a tante difficoltà fuori da questa situazione, tutto questo ha lasciato e inevitabilmente lascerà degli strascichi importanti. Quindi secondo me il ripartire con l'entusiasmo che queste iniziative si stanno proponendo ci dà senza ombra di dubbio la possibilità di capire come questo possa e debba avvenire. Uno in termini propositivi di iniziative, di attività eccetera eccetera ma uno tramite anche un'osservazione abbastanza chiara ed evidente e qui naturalmente saluto anch'io la rappresentanza del garante regionale di alcune situazioni secondo me molto particolari che si stanno vivendo perché se è vero come è vero che l'attività scolastica sta riprendendo e tutti stiamo facendo il massimo sforzo insieme a tutto il corpo insegnante per far sì che le cose continuino in piena normalità ci sono ancora degli aspetti e delle questioni ne parlavo l'altro giorno con alcuni rappresentanti del mondo sportivo perché anche lo sport è un momento importantissimo e fondamentale della crescita dei nostri ragazzi e le nostre attività come rete molto spesso sono vocate, sono spinte anche su questo tipo di secondo terzo momento della giornata, questa necessità giustissima di accedere al mondo sportivo per la fascia di età che va dai 12 ai 15 ai 16 anni col Green Pass, io perlomeno parlo di situazioni legate alla nostra territorialità, stanno di fatto rallentando quantomeno bloccando l'attività sportiva amatoriale dei ragazzi dopo la scuola e in un momento nel quale veniamo da un mondo di dad, da un mondo nel quale tutti ci stiamo sforzando al massimo per far sì che questi ragazzi non si fossilizzino dietro a questi oggettini o comunque dietro alla tecnologia che purtroppo li sta isolando sempre di più, questa non è una situazione facile, quindi secondo me è uno di quegli aspetti dove la risoluzione naturalmente è quella di incentivare il più possibile la campagna vaccinale e di far sì che anche questi ragazzi possano tornare il prima possibile a vivere questo aspetto, ma questa è un'altra questione che sicuramente ci sta interessando. E poi perché? E concludo e cominciamo con la parte bella, interessante e formativa della mattinata. Io credo che queste mattinate servano veramente molto anche a noi come amministratori e come coordinatori. Per ricordarci che cosa lo dicevo in macchina prima con la mia bravissima coordinatrice, stiamo per entrare in un altro momento molto importante come amministratori che è quello legato al PNRR, a tutte le opportunità progettuali, a tutto quello che ci auguriamo molto rapidamente verrà messo a terra nelle nostre città, nei nostri territori. Milioni di preoccupazioni, come lo progettiamo, in che tempi dobbiamo spendere eccetera eccetera. Ecco, facciamo un nodo sul fazzoletto, ognuno di noi come coordinatori, come partecipanti a questa rete, cerchiamo di non dimenticarci i nostri bambini, i nostri ragazzi mentre lo facciamo. Perché sicuramente osservando e chiedendo loro, magari in anticipo perché sappiamo che magari tra qualche settimana, tra qualche mese saremo chiamati a appoggiare sul tavolo i progetti, sembra grazie a Dio, come è venuto fuori anche dall'assemblea del lanci di Parma, basteranno gli studi di fattibilità, se no saremo messi veramente in enorme difficoltà per spendere questi denari. Non ci dimentichiamo di loro in questa fase, perché è forse questo il momento nel quale chiedere realmente un'integrazione dell'idea e far sì che venga realizzato quello che sta scritto su questa stupenda vignetta nel quale non vogliamo scimoli ma vogliamo la città. Ecco, per permettergli di dire la loro nella città, cominciamo a monte a pianificare questo tipo di interlocuzione per poi dopo trovarci pronti nel momento in cui invece saremo chiamati a correre, a progettare e a realizzare. Io penso che questi siano i presupposti e le motivazioni per le quali oggi ci ritroviamo, quindi davvero Massimo grazie ancora per questa organizzazione. Lo sai, te l'avevo detto, posso stare più o meno un'oretta al massimo per altri impegni istituzionali, ma fino all'ultimo minuto siamo qui e buona mattinata a tutti. Grazie Nazareno. Grazie Nazareno. Adesso la parola alla dottoressa Zampa in rappresentanza del Garante. Buongiorno a tutti. Allora, come ha detto il nostro caro sindaco, il Garante teneva assolutamente ad essere presente qui oggi e quindi non è la solita scusa dell'ultimo momento, ma effettivamente ha avuto un imprevisto al punto tale che mi ha chiesto di essere presente per rappresentare qual è la posizione del nostro ufficio. Quindi la presenza nostra è per testimoniare che il Garante regionale di diritto alla persona condivide assolutamente questa nuova filosofia di governo della città che 30 anni fa ha cominciato a creare progetti interessanti e del motivo per cui oggi ancora siamo qui a confrontarci su questo e che porta a sostituire quel univoco paradigma di sempre delle politiche per la città che era il modello dell'adulto produttivo lavoratore efficiente con modelli inclusivi della posizione del bambino, del ragazzo, il che poi porta alla visione democratica di inclusione anche dell'anziano piuttosto del punto di vista del disabile e quant'altro. In questo senso intende assolutamente il Garante in tutta la sua progettazione supportare la rete che è stata costituita delle città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti e intende patrocinare, promuovere e sostenere tutti i progetti e le iniziative che in quest'ambito verranno proposte. L'unica cosa che ci tenevamo a dire è il perché di questa posizione del Garante regionale, perché quando si assume una linea di condotta e una linea di azione la prima domanda a cui bisogna rispondere è il perché lo si fa. Per spiegare questo perché parto da una osservazione molto personale, nel senso che faccio il contesto. Il contesto è che il Garante regionale è soggetto di neoelezione. Lui arriva a svolgere queste funzioni, tante sue funzioni, tanti suoi compiti perché è una delle poche regioni in cui il Garante regionale assume su di sé uffici molto disparati e diversi dal Garante dell'infanzia e adolescenza, al Garante dei detenuti, al difensore civico. Quindi arriva sul sito regionale a doversi assumere questi compiti così gravosi, contestualmente anche io arrivo per la prima volta a svolgere il ruolo tecnico in quell'ambito. Quindi ovviamente entrambi ci siamo trovati in contemporanea a dover conoscerci e a dover apprendere tutto un mondo. Perché parto da questa contestualizzazione? Perché proprio pochi mesi fa in questo lavoro di questo anno che è stato intenso di contestualizzare dove siamo, appunto tale che abbiamo lavorato tanto e abbiamo una progettazione molto chiara per il prossimo triennio, mi è venuta spontanea l'osservazione di dirgli un giorno, ma guarda che caso, per conoscere te finisco per dover conoscere la città di Macerata, che mi era ignota come mi era ignota la sua persona. E lui effettivamente dice, quindi io dovrò prima o poi venire a conoscere la città di Fano perché io sono fanese. E perché parto da questa osservazione? Perché questo mi ha condotto a riflettere sul fatto che effettivamente noi riteniamo che l'educazione della persona passi essenzialmente dalle agenzie stigmatizzate, la famiglia, la scuola, l'ambiente sportivo e quant'altro. Quanto invece tantissimo nella crescita personale incide quella serie di relazioni e di occasioni quotidiane che portano a di fatto a modellare rappresentazione, a dare significati e sicuramente tra queste occasioni, queste occasioni, queste relazioni si svolgono nell'ambiente. Quindi anche l'ambiente in cui il bambino vive, l'adolescente si confronta con le sue caratteristiche fisiche, con la sua organizzazione sociale, in modo informale finisce per incidere nella sua crescita personale, modellando appunto le rappresentazioni della sua vita, dando significati e quant'altro. Ecco che quindi la città fin dai primi anni di vita, attraverso le forme di comunicazione, i suoi trasporti, i rumori, i luoghi di incontro o di non incontro, finisce in qualche modo per creare occasioni di esperienze che, come accade sempre nel mondo dell'educazione, o generano risorse positive per uno sviluppo equilibrato o costituiscono ostacoli per un'assenza di sviluppo psicofisico. Ecco che quindi la città sicuramente è un luogo privilegiato di sviluppo di competenze in età evolutiva. Partendo da questa serie di osservazioni siamo ancora più convinti nell'ufficio del garante che educazione, che poi si somma anche a creatività, che sicuramente nella visione dei bambini e degli adolescenti è molto più viva che nella visione di molti adulti e anche democrazia perché attuare tutti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, così come ci vengono dettati anche dalle normative internazionali, fanno sì che in realtà si possa rendere le politiche attuate dai nostri amministratori locali in modo più democratico perché tengono conto anche non soltanto di me che lavoro tutti i giorni e sono adulto ma anche di mio figlio adolescente piuttosto che della mia amica disabile, piuttosto che della mia mamma anziana. Grazie a tutto questo dico riconfermiamo la posizione dell'ufficio del garante che sarà assolutamente a fianco di questa rete. Buona giornata. Grazie Sindaco. Allora grazie a tutti, buongiorno e soprattutto grazie al a Fano, al comune di Fano che ha organizzato questa iniziativa che eh rappresenta un po' mi viene da dire la rivincita no? Sulla sul periodo di pandemia e soprattutto rappresenta eh il tentativo anzi la determinazione di ricominciare e ehm implementare sempre di più il progetto. Il il lavoro un po' della regione si era concluso eh con il tentativo di organizzare un evento simile nel marzo del duemilaventi e ehm c'è stato poi questo periodo in in cui eh per necessità eh ogni tipo di progettualità ha subito rallentamento e anche questa. Quindi in questo momento siamo qui proprio per riprendere, ridare slancio eh con la determinazione della 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 regione eh non solo di eh far proprio eh come ha già dimostrato il progetto ma soprattutto di spingere e coinvolgere sempre più comuni eh nella nella rete regionale ehm la la rete nasce sostanzialmente a seguito proprio della eh legge regionale quattordici del duemiladiciassette che prevede che la regione, la giunta faccia proprie le finalità del progetto, faccia proprie le finalità eh della convenzione per i diritti eh della convenzione ONU per i diritti dell'infanzia e quindi coinvolga eh ogni territorio regionale nell'implementazione di buone prassi che siano a favore dell'infanzia coinvolgendo l'infanzia e tutelando l'infanzia. Quindi mettendo in luce questo ruolo del bambino che è vero sì che è un minore va tutelato ma in quanto eh cittadino riconosciuto cittadino fin dalla nascita riconosciuti i diritti di cittadinanza ha anche la facoltà la possibilità di intervenire nelle proprie scelte. Per fare questo appunto la legge regionale individua ehm una serie di interventi eh che portano all'implementazione della rete interventi che garantiscono sia un supporto economico ma anche soprattutto un supporto organizzativo. La gestione del del progetto a livello regionale è stata affidata al servizio politiche sociali ma eh oggettivamente organizzativamente molto difficile e i due comuni capofila penso che ce ne possano dare atto gestire un progetto così importante che debba essere poi esteso a tutto il territorio regionale. Quindi l'idea è stata quella di individuare nel territorio della regione due comuni che abbiamo definito comuni capofila a cui abbiamo affidato quelli che sarebbero stati compiti assegnati no al nostro ufficio. Quindi sensibilizzare il territorio, valutare le realtà territoriali, prendere spunto dalle buone prassi che comunque nel territorio si erano realizzate, individuare i comuni che effettivamente avevano messo in atto politiche a sostegno dell'infanzia ma riconoscendo proprio il diritto di partecipazione dei bambini a qualsiasi tipo di decisione politica che riguardasse appunto come no già precedentemente detto dai dai colleghi che sono intervenuti riguardava sia l'ambito sociale che l'ambito culturale, l'ambito ambientale, scolastico e quindi questi queste buone pratiche hanno portato all'individuazione di una serie di comuni, individuazione iniziale no? Perché auspichiamo che questi comuni, sempre più comuni, mettano poi in atto questo tipo di politiche, questi comuni sono stati individuati e sono entrati a far parte della rete regionale per le città sostenibili, città amiche dei bambini e degli adolescenti, rete regionale che è stata formalmente istituita con un decreto e questa rete speriamo venga sempre più implementata, quindi l'elenco dei comuni che attualmente sono nella rete, mi pare il numero dei comuni sono circa una ventina e però è un elenco aperto, un elenco aperto nella quale ogni comune che si impegnerà nel portare avanti politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, nel rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza potrà poi entrare e aderire a questa rete. Il presupposto della rete è la firma di un protocollo, quindi si firma un protocollo nella quale le amministrazioni comunali si impegnano a portare avanti le politiche, le indicazioni che vengono dai comuni capofila delegati dalla regione proprio per sensibilizzare e quindi appunto attuare queste buone prassi. La prima individuazione dei comuni che sono gli stessi che poi sono stati confermati lo scorso anno è avvenuta nel 2018, a seguito di questo i comuni si sono adoperati per fare un censimento a livello regionale per vedere quali erano i comuni che potevano entrare a far parte della rete, sono stati ricoinvolti e quindi si è arrivata una prima stipula del protocollo che è avvenuta a settembre del 2019. Nel frattempo altri comuni hanno manifestato la volontà di entrare a far parte della rete, stamattina abbiamo di nuovo preceduto la firma del protocollo con l'adesione di altri due comuni, il comune di Gradara e il comune di Pesaro e quindi i due comuni capofila avranno proprio il mandato di cercare di individuare e coinvolgere il più possibile altri territori. Il coinvolgimento dei territori significa soprattutto che i comuni, alla stipula, alla firma del protocollo possano dimostrare di aver fatto attività a favore o comunque affini al progetto e soprattutto abbiano in prospettiva la realizzazione di progetti, attività che siano appunto sempre nell'ottica della realizzazione delle finalità del progetto. Abbiamo intenzione di riconfermare i comuni capofila anche per l'anno 2022, quindi sicuramente l'attività che Porto Sant'Elpidio e Fano dovranno svolgere ha già una lunga prospettiva di realizzazione. Per i futuri anni la speranza è quella non solo di mantenere i due comuni capofila ma anche di poter arrivare ad un finanziamento di singole attività. Di fatto i contributi che adesso noi stiamo erogando sono finalizzati all'attività specifica di sensibilizzazione, di formazione, di monitoraggio che i due comuni capofila devono fare. Quello che l'ambizione che abbiamo è quella di poter mantenere la loro funzione, il loro ruolo, ma anche di trovare ulteriori modalità per finanziare progetti. Quindi non soltanto aspettare l'iniziativa dei due comuni ma essere noi promotori di varie progettualità. Quindi per questo stiamo lavorando. Adesso comunque l'importante è che abbiamo portato a casa il risultato secondo me ottimo che almeno per alcuni anni insomma il progetto può andare avanti con l'appoggio incondizionato da parte del nostro servizio. Grazie per il contributo ma soprattutto anche per aver spiegato il senso, il percorso che si vuol fare con questo progetto. Professor Tonucci ci sente? adesso mentre aspettiamo per capire se si collega. Io sento. È la prima pillola però è fondamentale non l'ho detto nell'introduzione. Il progetto Fano città delle bambine e dei bambini per quello che riguarda Fano ma per qualsiasi comune è innanzitutto una scelta politica, è un progetto politico. Questo è fondamentale perché se non si coglie questo non e quindi la prima convinzione la devono avere gli amministratori. Come si traduce? Per esempio la scelta specifica che abbiamo fatto a Fano essendo un progetto complesso, articolato, trasversale che non segue soltanto un settore, invece di attribuire una delega per quello che mi riguarda ho anche sul suggerimento di Francesco, ho trattenuto la delega come sindaco perché lo fa un assessore poi sappiamo può esserci la competizione, il non dialogo, sono quelle cose anche umane. Ma serve anche a trasmettere un messaggio alla struttura perché l'altro elemento vero, perché le cose funzionano, la struttura che il motore di un ente devono comprendere il valore e adottare tutta una serie di comportamenti consoni a quella che è la filosofia del progetto. Questo ci tenevo a sottolinearlo perché è un elemento fondamentale e il fatto che io sia qui, stia anche dopo e interverrò anche sulle questioni tecniche, è una dimostrazione che ci crediamo per davvero. Detto questo, Francesco? Sì, ci sono. Ci sono, perfetto. Dopo magari presenterò anche i comuni che hanno partecipato oggi, che hanno mandato l'adesione, sono qui presenti. Mi sembra molto importante quello che diceva il sindaco ora della trasversalità all'interno del comune come sviluppo di queste politiche, ma anche un'altra delle condizioni che ha posto Beatrice Carletti, che è una delle condizioni per entrare a far parte della rete, che è quella dell'osservatorio. Qui oggi ne abbiamo due, abbiamo dei rappresentanti dell'osservatorio di Fano e dei rappresentanti dell'osservatorio di Montemarciano. Questo organismo, dopo lo dirò anche e l'ho scritto anche nelle slide che abbiamo messo in cartella, è importantissimo perché significa anche, oltre a quello che diceva Massimo, che il comune da solo non è sufficiente per sviluppare questo tipo di politiche, ma ha bisogno di tutta la città e quindi in questo osservatorio ci sono istituzioni, la scuola piuttosto che istituzioni, associazioni, agenzie educative che devono aderire per supportare l'amministrazione nello sviluppo di questi progetti. È un ruolo importantissimo ed è sintomo di questa apertura che l'amministrazione deve fare verso le associazioni e i soggetti del territorio e viceversa la collaborazione di questi soggetti del territorio che tutti devono contribuire a realizzare il progetto man mano in itinere. Ora ho chiesto il microfono a Massimo non solo per fare questa precisazione, dopo presenterò i comuni, ce ne sono alcuni anche di nuovi, non sono solo i vecchi comuni della rete qui oggi presenti, perché vorrei presentare io Francesco, perché mi emoziona sempre quando c'è lui qua. Io ho cominciato nel 92 con lui, nel 91-92, quindi buongiorno Francesco ti lascio la parola, qui ci sono tanti comuni che non vedono. Io ormai ti conosco a memoria. E mi ascolterai per un'altra volta. Il mio intervento mi hanno dato come titolo e ho accettato volentieri il titolo Perché i bambini, perché la città. Del progetto internazionale la città delle bambine dei bambini, nato a Fano, come è stato ricordato dal sindaco Seri, che saluto insieme al sindaco Francesco Frankellucci di Sant'Elpidio, è nato nel 91, ha compiuto 30 anni e mi piace pensare, voglio sperare, che la rete regionale delle Marche si consideri parte della rete italiana e parte della rete internazionale. vorrei quindi sviluppare questo mio pensiero, questo mio intervento, su due piani. Uno rivolto alle città, alle città presenti o alle città della rete, o comunque alle città delle Marche. e la seconda rivolto alla regione Marche. Ma come è stato correttamente ricordato dal sindaco di Fano, il progetto non è un progetto educativo, nel senso che non ha come scopo il miglioramento dei processi di apprendimento, non interviene sul miglioramento pur necessario dei processi scolastici, per esempio, o degli atteggiamenti familiari o sociali rispetto ai bambini. Non ha neanche uno scopo esplicitamente sociale, nel senso che non presume intervenire per migliorare le condizioni dell'infanzia nella città. Per questo ci sono specifici programmi e competenze specifiche nella città con assessorati che si dedicano a questo. È un progetto politico che non ha come obiettivo i bambini, ma ha come obiettivo la città. Quindi è un progetto che parla dei bambini, parla con i bambini, ascolta i bambini per cambiare la città. Quindi il bambino diventa una spesa di strumento scelto come parametro per misurare la città e per cambiarla, nell'ipotesi che quando le città saranno adatte alle esigenze dei bambini saranno migliori per tutti. Il bambino quindi assume un valore paradigmatico, se mi permettete questa brutta parola. Perché? Perché sono dei sensibili indicatori ambientali. Gli indicatori ambientali, come sapete probabilmente meglio di me, sono quegli animali che indicano il benessere o il malessere di un ambiente. Per esempio le lucciole o le rondini sono animali sensibili alla qualità dell'ambiente e quando spariscono, quando non ritornano, quando non appaiono, significa che l'ambiente è contaminato. Bene, quando i bambini scompaiono dalle città, e cioè quando non li incontriamo più da soli, fra loro, con i loro amici, nelle città, vuol dire che la città è malata. E quindi l'obiettivo di questo progetto alla fine, o se preferite il test per verificare se ha avuto esito questa nostra proposta, questa nostra politica, è il fatto che i bambini tornano a vivere lo spazio pubblico della città. E quindi questo direi che è importante considerarlo come un obiettivo. Ed è un obiettivo molto complicato, molto complesso, perché questo succede ai bambini debbono uscire di casa. Devono uscire di casa senza delle persone adulte che li controllino direttamente. E quindi vuol dire che l'ambiente... Un secondo, signor Tonucci, che l'abbiamo perso. Ah. Cosa devo fare? Posso? Io continuo a sentire l'ambiente vostro. Pronto? Posso? Posso? Pronto? Pronto. Ok. Ok. Posso condannare? Sì, grazie. Posso? Posso? Sì, sì, grazie. Ecco, di nuovo all'effetto eco che era scomparso. Sì, è scomparso. Potete toglierlo? Ecco, grazie. Il progetto si sviluppa su due principali assi. Uno è la parte... cioè la strategia che il progetto suggerisce è la partecipazione dei bambini. Quindi i bambini diventano protagonisti di questo progetto perché riconosciuti, come diceva correttamente la rappresentante dell'ufficio del Garante, i bambini che i bambini sono riconosciuti dalla Convenzione come cittadini e in quanto tali godono dei loro diritti e quindi hanno diritto a partecipare come tutti i cittadini. E partecipano alla vita della cittadini e partecipano alla vita della città in due modi sostanziali. Uno con le loro idee proposte e, se necessario, proteste. Questo aspetto, questo diritto dei bambini è riconosciuto in maniera evidente, chiara, esplicita, dall'articolo 12 della Convenzione, che dice che i bambini hanno diritto ad esprimere il loro parere ogni volta che si prendono decisioni che li riguardano. E prosegue dicendo che l'opinione dei bambini va tenuta in conto. È un impegno clamoroso che gli adulti hanno preso nei confronti dei bambini. Questo diritto noi adulti, per esempio, non lo abbiamo. Gli amministratori e i politici a tutti i livelli, dal Parlamento fino al Comune, non hanno l'impegno di consultare i cittadini tutte le volte che prendono le decisioni che li riguardano. Ma ai bambini noi lo abbiamo promesso. Questo si realizza in genere nelle nostre proposte con quello che chiamiamo il Consiglio delle Bambine e dei Bambini. In questi trent'anni di lavoro, uno degli sforzi che abbiamo cercato di fare è di liberare questa proposta, questa struttura da tutte le imitazioni del modello adulto in modo da liberare i bambini dall'idea di essere dei piccoli amministratori. Non sono dei piccoli amministratori, sono dei consulenti del sindaco. Infatti il sindaco, come diceva giustamente Massimo Seri, è il titolare, è chi assume la responsabilità di questo progetto. Non è un progetto di settore, non è un progetto di assessorato, è un progetto di giunta. Perché l'obiettivo è il cambiamento della città e quindi è il sindaco che firma l'adesione al progetto che poi il Consiglio Comunale ratifica con una delibera. Questo almeno nella nostra procedura. Il Consiglio dei Bambini l'abbiamo liberato di queste liturgie, diciamo, che erano presenti anche in esperienze precedenti alla nostra e precedenti alla Convenzione, per cui i nostri sono bambini piccoli. E questo è importante perché il contributo principale dei bambini è la loro diversità. Lo dice molto bene il piccolo principe, tutti gli adulti una volta sono stati bambini, ma quasi nessuno se ne ricorda. E questo è un po' il problema da cui nasce questa collaborazione. Il sindaco, consapevole di avere tanti collaboratori che lavorano con lui, competenti nei vari settori, ma che tutti hanno il piccolo difetto di essere adulti, chiede ai bambini il loro aiuto per arricchire il suo punto di vista e renderlo più completo. È un processo, dicevo, sono bambini piccoli, sono bambini scelti per sorteggio, non ci sono i piccoli sindaci perché è un gruppo di consulenti del sindaco, non è un gruppo che imita gli adulti per fare un'esperienza come un gioco di ruolo. È una cosa fatta per davvero, cioè il sindaco aspetta da questi bambini le loro indicazioni. Debo correre, ma per dire che questa operazione è apparentemente semplice, perché sembra che basti chiedere ai bambini cosa pensate voi della vostra città, cosa proponete voi o cosa non vi piace della vostra città, ma invece è un processo molto più complesso. Complesso perché i bambini sanno che il loro pensiero vale poco, perché questa è stata la loro esperienza educativa, sia nella famiglia che nella scuola, ai bambini si chiede di crescere e quindi di lasciare il loro pensiero, il loro atteggiamento da bambini per assumere il più presto possibile pensieri e atteggiamenti adulti. E quindi i bambini poco confidano nei loro pensieri autentici e se non stiamo attenti ci restituiscono quello che pensiamo noi. Per arrivare al pensiero dei bambini abbiamo bisogno di persone preparate, quindi la persona che sarà responsabile del vostro progetto e che terrà il rapporto con i bambini deve essere una persona preparata. E su questo noi stiamo lavorando molto. Sono attualmente in corso due corsi universitari di otto mesi in Argentina e in Messico, tenuto da nostri operatori per la formazione degli operatori che nei vari comuni si occupano del progetto La Città delle Bambini e Bambini. Dicevo quindi l'ascolto è difficile e è difficile poi fare quello che i bambini propongono perché quasi sempre quello che i bambini propongono veramente, cioè se arriviamo al loro pensiero, crea dei conflitti con gli adulti. Dico solo un caso evidente e clamoroso, il conflitto dei bambini con l'automobile. L'automobile oggi nella città occupa un posto preminente e prepotente che leva ai bambini molte possibilità, creando delle paure, occupando spazio, creando pericolo e tutte le volte che i bambini intervengono per rivendicare il loro diritto allo spazio pubblico, per esempio, si aprono dei conflitti addirittura con i loro genitori. Quindi il sindaco che sceglie questo progetto è un sindaco che ha scelto di stare con i bambini a costo di stare contro i suoi elettori. E alla fine è difficile, ma direi che è la parte più importante a cui teniamo di più del nostro progetto, che le piccole idee dei bambini, e sono piccole perché i bambini sanno quello che vivono. Quindi a loro non possiamo chiedere cosa pensano della pace, della guerra, dell'ambiente, del riciclaggio. Quando chiediamo a loro queste cose, ci dicono quello che hanno ascoltato in televisione o che sanno che pensiamo noi. Noi dobbiamo lavorare con loro sul loro mondo piccolo, che è il mondo della loro città, del loro quartiere, dei loro giochi, dei loro studi, eccetera. Difficile è portare queste piccole idee dentro la grande politica. Questo è il compito del politico. Questo è il compito di voi amministratori. Rubare i bambini le loro idee per arricchire le vostre politiche. Mi piace citare una politica che credo sia stata una buona politica, ed è una buona politica. Livia Turco, che quando era ministra del governo Prodi, in un convegno l'ha ascoltata dire mettere i bambini nella politica significa fare una buona politica. La secondo modo con cui i bambini partecipano a questo progetto è la loro presenza fisica nello spazio pubblico della città. E questa risponde all'articolo 31, che dice che i bambini hanno diritto al riposo, al tempo libero e a dedicarsi al gioco. È interessante notare che questo verbo dedicarsi al gioco non ricorre in altre parti della Convenzione, neanche nell'articolo 28 quando si parla di scuola. Il che vuol dire, dal mio punto di vista, forse voglio leggercelo io, ma mi piace farlo, che il gioco viene considerato come il diritto più importante che viene quasi trattato come un dovere. Cioè non solo i bambini hanno il diritto di giocare, ma quasi hanno il dovere di giocare. Per questo in quel disegno che vedete in un manifesto in fondo alla sala e che compare nella copertina del mio libro La città dei bambini, ho disegnato dei bambini che giocano con la palla, grazie agli operatori, e la scritta del cartello è scusate il disturbo, stiamo giocando per voi. Quindi in questo senso, dicevo, il gioco è anche in qualche modo un dovere. Ma cosa vuol dire giocare? Giocare intanto bisogna considerare che è un'esperienza fondamentale, probabilmente è l'esperienza più importante nello sviluppo di un bambino, perché è giocando nei primi mesi e anni di vita che il bambino costruisce le fondamenta su cui poi si costruirà lungo tutta la vita. E se non ci sono buone fondamenta, come sappiamo tutti, non si costruisce. Il problema è che il gioco è un'esperienza molto particolare e che ha bisogno di alcune condizioni. E sono quelle che ci sono scritte nella Convenzione. Per dedicarsi al gioco bisogna avere il tempo libero. Tempo libero vuol dire che oltre al tempo dell'impegno scolastico ci deve essere un tempo lasciato libero. E siccome le due esperienze, quella scolastica e quella del gioco, sono ugualmente importanti, io personalmente ho pochi dubbi sul dire che il gioco è più importante dello stesso studio, ma questo potrebbe essere un argomento di un dibattito tra tecnici. Insomma, questo non è importante. Diciamo che sono due esperienze fondamentali e ugualmente importanti. In questo momento la scuola si è presa quasi tutto il tempo dei bambini. Non è più la scuola delle quattro ore del mattino, che era la mia scuola elementare, la scuola media, che arrivava a cinque ore, e poi c'era l'altrettanto tempo nel pomeriggio, che era il nostro tempo, che si viveva fuori di casa, con gli amici, rispettando delle regole che le famiglie ci davano, o violandole e pagandone le conseguenze. Oggi questa cosa è cambiata radicalmente. La scuola occupa sei, sette, fino a otto ore della giornata. Addirittura si permette di dare dei compiti, il che vuol dire che occupa anche una parte dell'altro tempo, che non è suo. Questo, secondo me, è un abuso inaccettabile ed è un errore educativo gravissimo perché crea disagio nei bambini, anche nelle famiglie, ma questo è un discorso diverso, crea disagio, crea rifiuto da parte dei bambini, quindi vuol dire che non è un elemento che favorisce l'apprendimento. E occupa un tempo che non è della scuola. Anche la famiglia deve stare attenta a non occupare i pomeriggi per le attività. Il gioco libero è più importante delle attività ed è l'unica strada per la famiglia per conoscere i propri figli e per aiutarli a scegliere la loro strada perché le strade si evidenziano nel gioco. Vabbè, il discorso diventa lungo. Per cui io chiedo ai sindaci, chiedo alle amministrazioni locali di aiutare la scuola a capire e a riconoscere il rispetto del diritto al gioco dei bambini. E lo dico alle famiglie di rispettare il diritto al gioco dei bambini. Voi mi chiederete, ma che c'entrano i sindaci? C'entrano, perché il sindaco è il garante dei diritti del bambino nella sua città. A meno che non deleghi qualcuno a rappresentare questa funzione, ma credo che i bambini sono rappresentati dal loro sindaco e quindi lui lavora perché i diritti dei bambini vengano rispettati. E allora qui si apre un campo importante su cui, se volete, potremo ritornare. Cosa vuol dire per una città rispettare il diritto al gioco dei bambini? Vi dico una cosa che sembrerà paradossale. Significa chiudere, non avere più gli spazi di gioco per bambini. Perché quegli spazi con il gioco e il giocare non hanno nulla a che vedere. Perché sono spazi stereotipati dove noi adulti ci permettiamo di dire ai bambini dove e come debbano giocare. Una cosa che un adulto non dovrebbe mai fare. Il gioco è una competenza esclusiva dell'infanzia. Per cui il verbo che si deve utilizzare per il gioco non può essere né accompagnare, né programmare, né progettare, né disegnare, ma solo lasciare. Quindi l'atteggiamento dell'amministrazione rispetto al gioco è garantire che sia possibile. Perché sia possibile i bambini devono poter uscire di casa senza gli adulti e quindi la città deve essere una città che permette ai bambini di uscire senza gli adulti. Questo vuol dire tante cose che adesso non posso approfondire, ma ci sono esperienze che noi abbiamo nella nostra rete di città che stanno muovendosi e facendo delle esperienze importanti in questo senso, per esempio sul grande tema della restituzione dello spazio pubblico alle persone, ovviamente togliendolo alle macchine. Se una città vuole essere dei bambini, i bambini devono avere la possibilità di usare lo spazio pubblico come tutti i cittadini. Promuovere l'attività fisica e l'attività autonoma dei bambini vuol dire lavorare per la salute dei bambini. E passo all'ultimo, al secondo, la seconda parte che aveva annunciato di dire qualcosa sulla regione. Allora, mi sembra che questo è stato detto dal funzionario che ha parlato dalla signora che ha parlato prima di me, la regione ha in qualche modo aderito al progetto mentre promulgava la legge regionale sulle città delle bambine e dei bambini. Così ha fatto il presidente della regione Lazio sei o sette anni fa credo quando ha aderito al nostro progetto e da quel momento noi abbiamo collaborato con la regione Lazio per promuovere una rete regionale della regione Lazio che sta dentro la rete nazionale italiana del nostro progetto e sta dentro ovviamente il progetto internazionale. Quindi io la prima cosa che chiederei alla regione se non ha formalizzato questa adesione sarebbe interessante che lo facesse mettendosi in contatto con il laboratorio internazionale del CNR di Roma e perché la rete regionale delle Marche figurasse dentro la rete nazionale italiana che sta dentro la rete internazionale. A me piacerebbe che questo avvenisse perché si riconosca una comunità e perché ci sia anche la partecipazione della regione Lazio alle attività che noi stiamo svolgendo. Stiamo cercando di pensare anche per l'Italia così come si sta organizzando per la Spagna un corso di formazione per gli operatori del progetto. Ma cosa vuol dire aderire per una regione cioè per un ente sovraordinato rispetto alle città? Come dicevo all'inizio il destinatario naturale del progetto è la città. Il progetto nasce per il cambiamento delle città perché le città diventino adatte per tutte per tutti e perché questo sia possibile assumiamo il bambino come misura come parametro ma la regione non ha non può intervenire per cambiare la regione per esempio allora noi pensiamo che un primo passo è quello che la regione ha già fatto la regione Marche quello di promuovere questo progetto presso le città della regione poi bisogna sostenerlo secondo me più che pensando a finanziamenti specifici dati per il progetto perché questo da esperienze da noi fatte già per delle province che hanno aderito e la stessa regione Lazio ha un rischio molto forte e cioè che le città finiscano per aderire per avere i finanziamenti siccome sappiamo delle difficoltà delle città questa eventualità bisogna prenderla in considerazione e naturalmente se si fa questa scelta siamo completamente fuori delle prospettive e degli obiettivi del progetto perché è evidente allora io penso che la scelta più corretta sarebbe quella che la regione assumesse adottasse la filosofia del progetto e la trasferisse nella sua normativa e cioè varando leggi regionali che promuovono gli aspetti principali del progetto per esempio leggi che prevedano forme di partecipazione dei bambini e degli adolescenti non prevedendo che siano imitative dei modelli adulti e quindi che non passino per le elezioni tradizionali per il conflitto elettorale con i piccoli sindaci cose di questo genere che spesso noi abbiamo incontrato in leggi regionali proprio promuovere quest'altro modello se volete ci sono degli strumenti che noi abbiamo prodotto ci sono alcuni libri che ho scritto io e ci sono tre manuali uno sul consiglio dei bambini uno sulla scuola ci andiamo da soli e uno sulla progettazione partecipata tutto questo materiale in questo momento è prodotto dalla casa editrice 06A scusate questa nota che potrebbe sembrare di propaganda vorrei che pensaste che non è così una piccola casa editrice tra l'altro poco presente sul mercato ma potrebbe essere utile per poter sviluppare per poter conoscere più a fondo i principi di questo l'altro punto che potrebbe essere di grande importanza è promuovere il movimento autonomo dei bambini premiando le esperienze di vera autonomia come andare a scuola per esempio senza adulti non in altre forme tipo pedibus eccetera noi abbiamo bisogno di promuovere l'autonomia dei bambini perché questa poi permetterà ai bambini di uscire nel pomeriggio per giocare con i loro compagni e quindi mettere in moto questo circuito virtuoso del gioco dei bambini potrebbe la regione scoraggiare la produzione o la ripetizione di questi spazi stereotipati di gioco per i bambini per invece premiare spazi pubblici per tutti i cittadini e che quindi permettano un recupero di spazio pubblico dove anche i bambini possano vivere i loro diritti c'è un altro aspetto che mi sembra che potrebbe essere un forte impegno della regione dare luogo e dare corso all'articolo 42 della convenzione che impegna gli enti a promuovere la conoscenza ampia dice l'articolo e con mezzi adeguati dei contenuti della convenzione sia presso gli adulti che presso i bambini ora questa cosa non sta succedendo sono 32 anni che noi abbiamo la convenzione io sono convinto che neanche tutti i presenti a questo incontro conoscono a fondo la convenzione scusatemi di questa mia l'ho verificato in molte occasioni in vari paesi del mondo e purtroppo la convenzione continua a essere pochissimo conosciuta e ovviamente se non è conosciuta è difficile che venga rispettata la regione per esempio potrebbe rendere obbligatoria una profonda conoscenza della convenzione come elemento per la partecipazione a tutti i concorsi pubblici potrebbe stimolare la conoscenza della convenzione in tutte le facoltà universitarie potrebbe chiedere ai comuni di inserire questa necessità nei loro concorsi pubblici perché tutti gli operatori dai vigili urbani agli ingegneri o non so a qualsiasi ruolo non parliamo degli insegnanti non parliamo diciamo tutte le persone dovrebbero conoscere a fondo questa legge molto impegnativa e che purtroppo ripeto non per ultimo direi che sarebbe importante che la regione favorisse promuovesse la formazione degli operatori che partecipano a questa attività nei vari comuni noi in genere questa esperienza la facciamo in comune accordo con delle università che a loro volta aderiscono al progetto e anche per l'università la situazione simile a quella della regione cioè non è un ente che applica direttamente i contenuti della convenzione non ha il consiglio dei bambini non ha non si occupa del gioco o della autonomia dei bambini direttamente ma promuove attività di formazione e di ricerca anche questo è molto importante devo dire che forse Paola Stolfa se lo ricorda anzi sicuramente se lo ricorda noi abbiamo avuto un'idea che credo sia stata un'idea molto importante quando abbiamo vissuto i primi dieci anni che io ho seguito personalmente l'esperienza di Fano noi abbiamo avuto un rapporto con l'università di Urbino che seguiva per conto nostro nel senso che noi davamo una piccola borsa di studio agli studenti e le studentesse che volevano studiare l'esperienza di Fano da queste tesi di laurea e che erano varie sei o sette probabilmente o cinque o sei cose di questo genere il professor Baraldi allora professore dell'università di Urbino ha poi pubblicato un libro sull'esperienza di Fano che utilizzava gli studi di queste tesi di laurea quindi un libro che nasce di analisi di lettura critica dell'esperienza fanese beh questo è uno dei contributi che l'università può dare l'altro è quello della formazione insieme a noi se volete e quindi insieme ai nostri operatori che ormai da anni stanno seguendo questo progetto io personalmente le mie colleghe di Roma e altre figure abbiamo dei pediatri per esempio che seguono molto bene e sono molto preziosi nel sostenere queste tesi del nostro progetto specialmente le tesi sull'autonomia abbiamo degli architetti voi avete presente l'architetto Paola Stolfa che anche lei è una potenziale formatrice ed è una formatrice che segue da anni l'esperienza di Pesero prima è l'esperienza di Fano poi anzi Fano Pesero Fano questo mi sembra che sono le cose che volevo dirvi e su queste cose spero che rimanga aperto un dialogo fra il Laboratorio Internazionale e la Regione Marche in modo che si arricchisca la rete nazionale italiana e la rete internazionale vi ringrazio molto riprendo io la parola per così entrare più nel merito per entrare più nel merito come si traduce anche tutto quello che è stato prima raccontato e suggerito dal Francesco Tonucci come dicevo è un progetto innanzitutto politico dove va fatto una scelta chiara e fra l'altro prima di entrare nel merito anch'io visto che sono i rappresentanti della Regione e mi sembra interessante il fatto che anche la rete regionale si colleghi con la rete nazionale e anche quella internazionale perché sono momenti quest'anno anche in occasione del trentenale abbiamo avuto anch'io personalmente ho partecipato ad alcune riunioni della rete nazionale sono occasioni importanti di crescita di scambio ma sono anche un'occasione per seguire anche dei filoni che ci consentono a tutti di crescere detto questo ritorno a quanto dicevo prima che essenziale non è un progetto per bambini è un progetto di città e Francesco Tonucci nel suo intervento ce l'ha spiegato molto molto bene ed è un progetto dove ci sono delle parole chiave come sostenibilità accoglienza benessere inclusione accessibilità partecipazione cittadinanza attiva quindi città tutto tondo con tutte le sue articolazioni e le sue complessità perché il bambino veniva lo ripetiamo però rafforza anche il il concetto il bambino come soggetto di diritto come è richiamato anche nella convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1991 tra l'altro la cosa curiosa che quando il 27 maggio nel Parlamento italiano si approvava ratificava la convenzione a Fano c'era questa il Politeama il cinema una grande manifestazione con tanti sindaci allora chiamati e oggi siamo a distanza di 30 anni quindi il bambino viene preso come parametro perché sotto certi aspetti è la figura più fragile sia una città a misura di bambino e a misura e a misura di tutti quindi dare la parola ai bambini come elemento di partecipazione ascoltarli però ecco qui lo dico da sindaco perché alcune volte da amministratori ci capita se ci prendiamo degli impegni e diciamo delle cose poi dobbiamo essere coerenti e mantenerlo non possiamo arrivare come dirò magari con il consiglio dei bambini dove formalmente ci assumiamo degli impegni e poi non li manteniamo quella è la peggior cosa che si possa fare e l'altro elemento quello di portare poi i bambini nella testa degli adulti cioè nella concezione come il piccolo principe che ci ricordava che insomma siamo stati tutti bambini allora io faccio alcuni esempi e dopo lascio la parola a Paola che entra più nello specifico però alcune cose ci tengo a raccontarle due sono i filoni su cui operare uno è sulla trasformazione della cultura dell'infanzia nella città perché un altro elemento è proprio il passaggio forte di un lavoro culturale a cominciare come dicevo prima ed è stato il primo lavoro che ho cercato da fare quando mi sono insediato come sindaco proprio di far comprendere anche alla struttura ai responsabili dei servizi ai dirigenti perché se non c'è la collaborazione non c'è la condivisione posso garantire che non è facile c'è un certo senso di larità quando si magari si pronuncia delle cose poi quando si entra invece si scopre che in realtà è talmente profondo e riesce a radicarsi e a trasformare concretamente le cose e a non farci sfuggire alcuni aspetti che poi sono essenziali anche nella funzionalità nell'utilizzo nell'appropriarsi degli spazi pubblici della città primo elemento noi abbiamo fatto una scelta anche formale non quando ero stato programmista anche allora perché ero presidente del consiglio comunale però lo statuto di Fano ha un articolo dove richiama la città Fano città delle bambine e dei bambini quindi c'è un atto formale lo statuto è la costituzione di un comune e nel comune di Fano lo statuto del comune di Fano c'è il richiamo e alla Fano città delle bambine e dei bambini e questo non è solo un elemento formale ma è sostanza perché è un messaggio chiaro che si assume il consiglio comunale che è il massimo organo decisionale della della città gli strumenti e alcune iniziative proprio che lavorano anche sulla cultura una è l'iniziativa la città da giocare la città da giocare che noi teniamo ogni fine anno scolastico nel mese di maggio e questo è un'iniziativa di forte impatto e vi posso garantire che lo è e vi racconto anche l'aneddoto della nostra città perché è una scelta politica perché poi si fanno delle scelte con coerenza e quando questa non c'è anche le azioni sono diverse quando mi sono insediato noi abbiamo rifatto riconfermato una scelta e la città da giocare consiste nel chiudere creare un disagio alla propria città e noi chiudiamo la strada principale della città che attraversa ma io l'ho ripresa perché chi mi ha preceduto aveva fatto una scelta diversa l'aveva portata a lungo mare che era una bella cosa ma era un'attività di accoglienza piacevole non aveva questa forza e questo messaggio che si voleva trasmettere e vi voglio leggere il manifesto che si mette all'ingresso della città oggi le strade di Fano sono state chiuse al traffico perché sono state regalate ai bambini per giocare ecco questo è il messaggio che si vuol trasmettere vi posso garantire che il primo anno che l'abbiamo riportata in Viale Gramsci insomma ci sono state delle reazioni oggi guai a non rifarla perché poi c'è stato il coinvolgimento di tutte le associazioni una grande partecipazione la soddisfazione è che oltre a quella che gli ultimi anni non l'abbiamo fatto però abbiamo ragione del covid ma anche in alcuni quartieri in altre date è stata ripresa con il coinvolgimento di associazioni di cittadini attivi di quella di quella realtà però il tema è il messaggio forte è un messaggio culturale che si vuole trasmettere il consiglio delle bambine e dei bambini anche questo è uno strumento straordinariamente importante e serio e non è un inimitare il gioco dei consigli sono dei consulenti del sindaco come veniva ricordato prima da Francesco Tonucci e lo sono tutti gli effetti svolgono la loro attività che è un'attività di consulenza di parere su alcuni progetti che si fanno nella città perché noi magari pensiamo a tutte le cose e ci sfugge il particolare che magari nella pratica poi ha un'importanza per i bambini e non solo e diventa uno strumento di sensibilità su alcuni temi sono occasioni di riflessioni e sono anche un ruolo che i bambini svolgono nel ripensare la città io stesso chiedo delle volte all'inizio dell'anno mi aiutate su questo tema vi chiedo cosa ne pensate mi aiutate a fare dei progetti poi si conclude il percorso e il lavoro con un incontro formale che il consiglio delle bambine e dei bambini ha con il consiglio comunale e la giunta dove ci confrontiamo dove ci fanno delle proposte in un confronto vero e poi c'è un atto deliberativo sulle proposte che condividiamo perché poi bisogna avere anche l'onestà di dire no questa cosa non la condividiamo ma quello che si assume e si delibera poi deve avere una conseguenza lo dicevo prima perché altrimenti diamo un pessimo esempio e deludiamo un interlocutore serio cittadino perché l'altro elemento i bambini sono cittadini di oggi non cittadini del futuro come spesso si sente pronunciare l'altro strumento lo ricordava prima Paola è l'acquistizione di un osservatorio anche questo l'osservatorio è uno strumento importante dove c'è la rappresentanza di tutte le articolazioni della città e ha lo scopo di fermarsi ragionare verificare essere elemento critico anche promotore di pungolo ed è un ruolo importante ed è richiamato anche dalla dalla stessa legge regionale che lo mette come elemento e poi ovviamente si sta dentro le reti nella rete nazionale nelle rete internazionali perché sono un elemento che ci integra e ci fa e ci fa crescere per quello che riguarda Fano poi questo progetto è stato inserito anche nel piano strategico orizzonte 20 e 30 che è il piano strategico della città fra l'altro molto partecipato il fatto che ci sia pieno titolo e che sia stato voluto e richiamato anche dalle tante persone che hanno partecipato cittadini la dice lunga nel senso è un elemento di soddisfazione perché è riuscito significa che è diventato anche patrimonio di una di una città e non soltanto di chi lo propone l'altro elemento e poi dopo lascio la parola a Paura è la trasformazione della città la rigenerazione urbana e la mobilità sostenibile perché parliamo di città quando si dice non vogliamo antalene giochi ma vogliamo la città dove si fanno delle scelte chiare dove se tu metti la persona e non la macchina al primo punto significa che anche quando tu vai a progettare a fare delle cose bisogna assumersi delle responsabilità e fare delle scelte anche coraggiose non sempre apprezzate all'inizio ma posso garantirmi poi che col tempo se sono fatti in modo partecipato hanno anche un effetto diverso sulla gente e qui c'è il tema il progetto a scuola vado da solo ormai radicato da tanti anni consolidato e oggi ci siamo dati una sfida ulteriore quella di allargare le scuole i quartieri dove questo avviene neanche perché abbiamo fatto anche nuove strutture scolastiche e questo è un progetto importante che aiuta l'autonomia ed educativo anche per i genitori perché vi devo dire la verità mi è capitato alcune volte litigare più con i genitori per garantire certi percorsi rispetto a tutto il mondo che sta intorno e fra l'altro avendo avuto un periodo figli della stessa età mi è toccato anche con amici con cui condividevo altre esperienze e gli ho detto ma vi ricordate quando eravamo ragazzi noi è vero che la società cambia però non dobbiamo esagerare perché diventiamo iperprotettivi e poi rischiamo anche di condizionare l'autonomia della crescita dei ragazzi l'altro progetto poi c'è tutto il tema della mobilità dolce il tema delle zone zone 30 interventi a traffico moderato una serie di interventi ma su questo Paola è molto più brava di me l'altro elemento poi concludo è quartiere a misura di bambine e di bambino io questi sono orgoglioso perché è nato in questo mandato l'ho voluto fortemente perché questo è il progetto che racchiude tutto ma veramente racchiude tutto e siccome siamo arrivati alla fine vi posso dire che è un progetto straordinario e funziona oggi i quartieri ci chiedono di applicarlo tant'è che lo stiamo adesso facendo per il quartiere di Centinarola come consiste ve lo dico in due parole poi dopo consiste che applichiamo il criterio bambino protagonista abbiamo chiesto ai bambini di Sant'Orso che è il quartiere più popoloso della nostra città ripensate il vostro quartiere dal vostro punto di vista loro hanno cominciato a lavorare in piena autonomia ovviamente accompagnate da urbanisti da architetti insomma avevamo fatto uno staff che facilitavano ma nella loro piena autonomia loro hanno ridisegnato e ripensato anche con le fantasie con la loro creatività anche con le loro provocazioni il loro quartiere e lo hanno presentato adesso ecco lì vedete alcune immagini hanno fatto dei plastici poi l'hanno presentato al sindaco l'abbiamo presentato nel centro del quartiere da lì abbiamo coinvolto poi i genitori cioè da quel progetto ci si è confrontati con i genitori poi da lì abbiamo coinvolto tutte le associazioni che vivono il quartiere da quelle sportive dalle parrocchie da quelle sociali a quelle ricreative abbiamo dialogato con i commercianti con gli operatori economici dove c'erano anche dei confronti forti perché i bambini hanno chiesto che volevano essere sicuri quindi abbiamo tolto dei parcheggi dove c'è il CON dove c'è il centro commerciale di Santoro partecipazione poi si ritrovava che i negozianti avevano anche i loro clienti che erano lì che erano genitori che erano insomma alla fine devo dire il progetto è stato condiviso sentito proprio ma non è che si è fermato soltanto agli aspetti prettamente di lavori pubblici di interventi ci hanno posto ci avevano chiesto per esempio un'area di skate che abbiamo rifatto completamente abbiamo creato dei murales abbiamo creato delle condizioni anche di un progetto sociale di coinvolgimento di valorizzazione di responsabilizzazione si erano create alcuni problemi di piccoli atti vandalici di ragazzini un po' più grandi però insomma c'era un insieme dove si è ripensato completamente il quartiere è venuto il tema degli spazi verdi che devono essere liberi dove poi qualcuno ha pensato anche agli adulti quello che aveva il genitore che andava in palestra dice ma perché quando va a cura non può farlo anche e abbiamo fatto i percorsi fitness come vedete alla fine arrivano alcuni suggerimenti anche dal quindi c'è veramente ridisegnato ci siamo presi l'impegno l'abbiamo fatto proprio poi con atti deliberativi e non è ancora finito perché poi sono qualche milione di investimento non sono passeggiate e abbiamo partecipato anche ad alcuni progetti con il ministero dell'ambiente che sono stati finanziati alcuni abbiamo messo risorse proprie dell'amministrazione comunale insomma la della favola è un progetto complessivo che dovrebbe finire nel 2022 con famose ecco io di questo vi dico la verità sono orgoglioso perché ha tutta l'essenza del della filosofia della città delle bambine dei bambini l'ultima cosa per dirvi alcune volte anche le cose più leggere ma si trasformano in un confronto consiglio delle bambine e dei bambini era emerso e mi ha detto vedi sindaco voi organizzate tante belle cose tanti eventi ma pensate solo agli adulti noi quando siamo con i nostri genitori ci annoiamo quindi quando ci fate le grosse manifestazioni dovete pensare che ci siamo anche noi dovete dedicare degli spazi effettivamente ci ha fatto riflettere l'abbiamo sperimentato su due o tre cose oggi è diventata una regola in tutti gli eventi che facciamo c'è uno spazio dal Brodet Fest quindi anche dalle cose dal jazz cioè c'è uno spazio dedicato a loro vi posso garantire che oggi è una regola funziona funziona per i turisti funziona per i nostri funziona per i bambini per ecco questa è ripeto un'idea leggera però che ha un effetto e e funziona dopo ripeto ci si deve sempre migliorare io mi fermo qua perché poi non dobbiamo mettere troppa carne al fuoco però sono alcuni elementi strumenti veri e concreti che traducono l'idea e questi sono applicabili in tutte le realtà grandi e piccole è chiaro che hanno complessità esigenze e percorsi diversi però è per tutti e e alla fine messi insieme veramente il risultato è migliorare la qualità della vita una vita in una città dove le persone sono protagoniste e possono vivere a cominciare dagli spazi pubblici dagli spazi che devono essere non limitati ma per tutti evitare anche di commettere errore e concludo veramente quando pianifichiamo per esempio una scelta che noi abbiamo fatto è quella che vogliamo arrivare in questi a fine mandato in tutti i quartieri che siano degli spazi attrezzati verdi usufruibili perché per tutti però anche su questo si commettono degli errori e qui Francesco è un grande maestro lo ripete spesso io lo segno e cerco di tradurlo poi alla fine non è che abbiamo fatto un gran lavoro quando abbiamo messo dei bei giochi delle belle sì sono importanti anche quelle ma degli spazi che siano veramente liberi e non c'è una vignetta carina dove c'è un parco con tutta una rete intorno che è una prigione il bambino è dentro quando volevamo spazi sicuri e liberi non intendevamo queste perché alla fine andiamo lì noi siamo genitori o nonni che li accompagnano sono tranquilli ma in realtà non diamo rendiamo un servizio per il bambino io mi fermo qua ho fatto un po' una carellata delle nostre cose passo molto volentieri la parola a Paola che può entrare più nello specifico poi queste occasioni sono anche un'occasione di confronto perché ci chiedete anche le cose dopo noi abbiamo il nostro punto di vista in base alla nostra esperienza che magari non può collimare possono sfuggire quindi sono un'occasione che ripeto di formazione di confronto e di traduzione poi nei nostri territori di questi principi il sindaco mi mette in difficoltà perché ormai può fare anche meno di me perché ha fatto veramente una carrellata su tutte le nostre esperienze in corso non solo da 30 anni ma in modo particolare negli ultimi 5 visto che sono architetto mi vorrei soffermare su quello che è il progetto diciamo che sentiamo in modo più forte in questo periodo e che abbiamo avviato appunto 4 anni fa perché eravamo consapevoli che non si poteva trasformare la città tutta in una volta e renderla tutta a misura di bambino e quindi abbiamo scelto di focalizzare delle aree della città di partire quartiere per quartiere e andare a migliorare anche perché sono percorsi lunghi partecipati quindi con i bambini poi con gli adulti con gli operatori economici con le associazioni sono processi lunghi e abbiamo attivato questa cosa ed è stato un bel successo purtroppo l'amministrazione adesso lo dico io al sindaco non sempre risponde nei tempi giusti come diceva Massimo adesso stiamo realizzando l'ultima parte di zona 30 nel quartiere con la moderazione della velocità delle auto il resto abbiamo fatto parecchi interventi però sono passati 4 anni è chiaro che i bambini crescono però ogni intervento che si è fatto si è cercato di comunicarlo anche a tutto il movimento di residenti di cittadini che si sono mossi attorno a questo progetto perché poi come diceva Massimo sono stati coinvolti dagli operatori commerciali ai genitori alle famiglie alla scuola eccetera e ancora oggi lavoriamo in quella scuola di quel quartiere per la scuola ci andiamo da soli i bambini cambiano in continuazione quindi bisogna sempre governare questi processi e portarli avanti sempre la cosa importante che secondo me in questi tipi di progetti adesso siamo partiti con un altro quartiere è quello di alla fine non bastano solo gli interventi strutturali ma bisogna spingere su questa collaborazione da parte del quartiere stesso dalla gente che vive nel quartiere dagli operatori eccetera e soprattutto l'obiettivo ce ne sono altre esperienze in Italia sarebbe quello di fare un patto di collaborazione tra comune e associazioni di quartiere in modo che il quartiere venga sempre in qualche modo vivacizzato dalle iniziative dalle opportunità ne abbiamo fatte anche alcune in occasione di Halloween per esempio perché questo era un quartiere un po' difficile e abbiamo attivato una bella delle belle giornate garantendo la sicurezza dei ragazzi dei giovani con la musica con altre cose quindi il coinvolgimento degli adulti è fondamentale è vero partire dai bambini e coinvolgere loro ma quello che dicevo prima di coinvolgere anche l'osservatorio e tutte le le associazioni che esistono nel territorio l'altra cosa che volevo dire su questo progetto è che sicuramente lo vedete anche da questo schema molto semplice che è assolutamente trasversale quindi abbiamo affrontato tutti i temi che riguardano il miglioramento della vita dei bambini in quel quartiere che potevano interessare i bambini forse non tutti però secondo me abbastanza e ovviamente di ogni parte di questo progetto se ne occupa adesso un assessorato diverso un servizio diverso e in questo modo che cos'è oggi vanno molto di moda e hanno preso piede rispetto a quando siamo partiti noi i progetti di rigenerazione urbana secondo me sono questi i progetti di rigenerazione urbana e sociale perché qui si coinvolgono le persone quindi la rigenerazione urbana non si fa soltanto con la ristrutturazione di un grosso edificio di un immobile storico di una cosa del genere ma occorre rivitalizzare tutta la la zona interessata anche attraverso le persone che lo abitano tutti i giorni quindi lì c'è una scuola c'è un grosso centro commerciale c'è una parrocchia ci sono una serie di soggetti che vivono ogni giorno quel quartiere e occorreva tenerne conto tenere conto di tutti questi aspetti l'ultima cosa invece poi lascio magari queste slide le metteremo a disposizione ve le mando oppure è che io che ho cominciato tanti anni fa quasi insieme a Francesco Tonucci oggi alla luce di quello che sta succedendo anche con i nuovi fondi europei con il PNRR con tutte le politiche europee che stanno andando incontro alle politiche ambientali ormai in senso molto stringente è che vedo sempre più convergere i principi della città dei bambini e della convenzione ONU sui diritti dell'infanzia con quelli dell'agenda 2030 sulla sostenibilità e con gli obiettivi che l'ONU si è dato al 2030 e sicuramente sono sovrapposti noi siamo all'epoca è stata una coincidenza quella di partire col progetto proprio in occasione della ratifica della convenzione ONU sui diritti oggi ci ritroviamo che negli obiettivi dell'agenda 2030 c'è un obiettivo specifico che tratta delle città sostenibili e noi con questi progetti sicuramente ci ritroviamo pienamente dentro e l'altro aspetto è che speriamo che nel prossimo sviluppo delle politiche ma anche dei progetti e della partecipazione a bandi e cose di questo genere si tenga conto anche di questo aspetto proprio per questa peculiarità che alla fine restituisce tutta la complessità di questo tipo di progetti da qui a me sembra evidente che non è soltanto un progetto per bambini ma è un progetto davvero di riqualificazione dell'ambiente urbano e delle persone che abitano questi spazi gli spazi pubblici principalmente ma anche altre cose cosa devo dire quindi agenda 21 e agenda 20-30 e l'ho scritto anche in una mail mi sembra eccola qua che secondo me oggi si fondono e l'obiettivo è sempre quello di convergono in qualche modo verso un obiettivo comune che è quello di rendere sempre più vivibili le nostre città i nostri spazi urbani per le persone ovviamente noi partiamo dalle persone più piccole come età ma a volte sono anche più grandi e più concreti anche di molti adulti per arrivare appunto agli aspetti ambientali che stiamo sviluppando molto anche con i bambini del consiglio è un'esperienza davvero per me è ormai una cosa consolidata però ogni volta che si lavora insieme ai bambini e ci si cala in un'esperienza del genere è un'esperienza nuova e naturalmente un ultimo aspetto questo per i comuni che vorranno aderire o che hanno già aderito sono tutti i progetti che vanno adattati alle situazioni reali del proprio comune prima parlavo con il comune di Borgo Pace che è un piccolo comune con pochi abitanti ovviamente sia i progetti ma anche l'osservatorio piuttosto che le modalità che la delibera vanno adattate alle esigenze del luogo e di conseguenza sviluppate Massimo parlava di Lione prima mi ricordo che volevo ricordare anche che a maggio quando abbiamo fatto il primo evento per il trentennale della città dei bambini abbiamo incontrato la rete internazionale latinoamericana e c'era con noi il sindaco di Lima che è una città di 9 milioni di abitanti e allora Trafano che ha 60 mila abitanti Borgo Pace che mi diceva forse arriva 600 abitanti e Lima che ha 9 milioni di abitanti tutte queste città hanno deciso di andare in questa direzione verso e di adottare delle politiche e delle azioni per rendere più vivibili gli spazi per i bambini quindi questo mi sembra molto importante anche come scelta politica verso il futuro ma già da oggi per i bambini deve essere già da ora adesso mi viene in mente un'altra esperienza che stiamo facendo proprio in questo momento un aiuto che ho chiesto una consulenza che ho chiesto noi siamo città turistica ho chiesto ai bambini e alle bambine di dirmi di farmi sapere cosa vorreste voi quando andate in vacanza in altre città perché sicuramente i bambini che vengono qua si aspettano le stesse cose e nel momento del pensando alla città ai temi della ricredità culturali ci hanno fatto notare due cose una per quello che riguarda la città la sua parte storica che anche quella è pensata solo per gli adulti non ci sono percorsi dedicati per loro più leggeri anche a misura d'altezza e l'abbiamo fatto proprio e stiamo lavorando proprio su un progetto che siamo penso quasi alla conclusione che fra l'altro è rientrato poi in un progetto finanziato dall'Unione Europea su un progetto dell'area macro ionica o adriatica dove anche qui abbiamo fatto un progetto capofila interessante e abbiamo elaborato una proposta anche turistica ma che diventa anche per la città coinvolgendo ristoranti hotel spiagge dove chiediamo tutta una serie di requisiti di attività e di attenzioni per considerarle a misura di bambina e di bambino anche su questo insomma è un percorso non semplice perché quando si fa poi deve essere severo perché se allarghiamo a tutti poi non e noi ci siamo presi poi l'impegno per tutti coloro che aderiscono e che si adeguano con anche obiettivi negli anni di crescere fino ad arrivare a tutta una serie di attività anche all'interno dove poter arrivare dove i bambini si cucinano anche delle cose così imparano anche giocando però sono emerse delle cose interessanti come per dire dopo mi rendo conto tradurlo anche nell'interesse economico non è semplicissimo perché richiede spazi però una delle osservazioni che era immersa era che quando vanno a mangiare in un ristorante sono solo i bambini con i genitori o con gli adulti perché non pensate a uno spazio dove altri bambini di altri genitori stanno tra di loro e noi ci abbiamo un tavolo dedicato voi capite non è semplice perché sono posti sono soldi però ci si ragiona intanto poi non è scusa che qualcuno possa arrivare a fare anche questo però insomma spazi dedicati adesso non sto a fare l'elenco perché è complesso però per dire quante sfumature quanti interessi quanti mondi si coinvolgono Francesco tu puoi intervenire anche correggerci quando se diciamo cose inesatte non mi permetterei mai io vi ascolto vi ho sentito vi ho seguito sì una cortesia se vi presentate così almeno non ci conosciamo tutti allora buongiorno a tutti io sono Lorenzo Seta l'assessore alle politiche giovanili del comune di Montemarciano ovviamente vi ringrazio vi ringrazio dell'invito vi ringrazio di questa occasione vi faccio anche i complimenti per tutte le attività che portate avanti da anni per la vostra bellissima città ogni volta che vengo a Fano devo dire che è tenuta molto bene è una città molto bella quindi complimenti per il lavoro che state facendo come comune di Montemarciano oggi insomma vi porto qualcosa della nostra testimonianza Montemarciano sono anni che porta avanti attività a livello di rete delle città sostenibili amiche dei bambini e degli adolescenti e proprio alla rete io devo dire che un comune come quello di Montemarciano deve dare tanto noi ovviamente siamo un comune di diecimila abitanti sicuramente non avremo le risorse né le professionalità che possono avere comuni più grandi però se oggi il comune di Montemarciano in questi anni può vantare umilmente di aver fatto tante attività lo deve proprio alla rete questo progetto per noi è nato nel 2014 su impulso del di legambiente di Unicef con il progetto città sostenibile amiche dei bambini e degli adolescenti in quell'occasione abbiamo creato l'osservatorio comunale infanzia e adolescenza e abbiamo creato la consulta dei giovani due organismi che sono tuttora più che attivi più che vivi qui abbiamo Luciano Giulioni e Anna Manghini che fanno parte dell'osservatorio ma insomma oggi la presidente Serena Oreficini era impegnata per lavoro per cui non è potuta venire però diciamo che sono tante tante le attività che abbiamo messo in pratica in questi anni una tra tutte mi sento di anticiparla in qualche modo perché ormai l'abbiamo anche deliberata in giunta e abbiamo voluto intitolare un parco pubblico su iniziativa dell'osservatorio su proposta dell'osservatorio un parco comunale che ad oggi non è intitolato alle città sostenibili amiche dei bambini e degli adolescenti quindi lo faremo probabilmente in primavera dando anche un segnale della partecipazione del comune di Montemarciano a questa rete a cui deve tanto poi magari anche Luciano se vorrà aggiungere qualche iniziativa fatta mi fa piacere però va bene come vuoi in generale comunque devo dire che sono state appunto tante le iniziative sono venuti fuori oggi tanti argomenti sarebbe bello insomma continuare in questo dibattito sappiamo che la regione Marche che ringrazio anche per il lavoro che sta facendo e che ha fatto in questi anni nonostante diciamo questi anni di pandemia siano stati un po' complicati per tutti però insisto sul fattore rete e quindi sarebbe bello che quello che è iniziato anni fa anche con la legge regionale possa continuare noi abbiamo un grande bisogno sicuramente di lavorare su un cambio di paradigma quindi quello che diceva prima anche il sindaco è bene che ci sia proprio un impegno politico che i sindaci stessi si assumano su di sé questo importante onere è fondamentale ma è fondamentale che le persone che oggi non sono qua e che molto probabilmente sono quelle già in parte sensibili e sensibilizzate a questi argomenti non siano le uniche che portano avanti il progetto c'è tutta una schiera di professionisti e di persone che portano avanti le loro attività che devono essere consapevoli che questo è un progetto trasversale che dobbiamo portare avanti tutti insieme figure professionali che lavorano all'interno dei comuni che devono sapere che questi concetti fanno parte della vita quotidiana della vita di tutti noi sapere che i bambini sono cittadini di oggi e non cittadini di domani è un argomento importantissimo che deve superare quelli che sono i pregiudizi che tutti noi abbiamo anche in questo senso che hanno creato le città che oggi viviamo dove fondamentalmente quello che è importante è che decide l'uomo bianco di una certa età e anche di una certa appartenenza sociale ecco non è più così in realtà le città lo sappiamo che sono a misura di bambino sono a misura di tutti le città che sono a misura di persone con difficoltà anche fisiche quindi diversamente abili sono sicuramente città idonee anche per noi diciamo normodotati quindi il fatto che il nostro impegno politico e le azioni conseguenti vadano in questa direzione secondo me è fondamentale però ecco l'impegno politico è importante scusate se mi sono dilungato un po' troppo c'è anche vuole intervenire anche Fausto che è uno del nostro osservatorio un rappresentante però velocissimamente vorrei rispondere rispondere insomma dare fare un approfondimento su quello che diceva adesso l'assessore di Montemarciano e riprende il discorso anche di Beatrice allora noi comuni di Fano e comuni di Porto San Delpidio siamo stati riconfermati capofila della rete per essere molto concreti Lorenzo rispetto a quello che chiedevi e che pensi sia importante per i comuni noi siamo i capofila e tra i nostri compiti immediatamente ci sarà una ricognizione di tutti i comuni della rete che fanno già parte della rete per capire che cosa è successo in questi due anni di stasi diciamo così sicuramente molti progetti molte cose sono andate avanti con tutte le difficoltà oggettive ma vogliamo capire quali sono le esperienze diverse nei vari comuni come ognuno ha adattato il progetto alla sua necessità qual è l'intenzione di proseguire su quali filoni su quali canali e quindi dopo questa ricognizione faremo un report con tutte le esperienze di tutti i comuni e un incontro magari anche molto più operativo sulle azioni sui progetti specifici eccetera per poter orientare anche le attività future dei prossimi due anni tre anni quello che sarà in modo che tutti i comuni possano conoscere le esperienze degli altri e possono trarre i vantaggi e gli spunti necessari per poter avviare le cose il consiglio dei bambini mi sembra la cosa iniziale anche più semplice da organizzare perché è quella che poi prevede la partecipazione e l'ascolto dei bambini come momento iniziale ma poi i progetti come avete visto sono molto articolati e molto complessi noi ci siamo restituiremo questa fotografia allo stato attuale di tutti i comuni e poi faremo un programma questo discorso l'abbiamo condiviso con la regione Marche ma anche con l'altro comune e questo sarà il percorso dei prossimi mesi ovviamente se nel frattempo emergono delle esigenze delle richieste particolari noi siamo qua quindi scriveteci telefonateci che noi siamo disponibili se sono argomenti di cui non possiamo non siamo abbastanza esperti o comunque non possiamo supportare chiameremo delle persone che possono supportare anche altre cose però insomma questo sarà il percorso immediatamente successivo a questo incontro di oggi oggi era l'apertura generale dei lavori adesso ripartiamo sperando che tutto prosegua per il meglio anche sul campo ambientale e salute prego questo fu il dirigente scolastico si pronto che ha partecipato alla grande negli anni 90 che ha proprio su questo voglio parlare perché siccome bisogna portare delle cose concrete allora io voglio tenere un discorso di concretezza visto che di fronte a me ci sono rappresentanti delle amministratori locali quindi dei comuni allora Paola è la protagonista di un'iniziativa che noi facemmo addirittura 25 anni fa nella mia scuola di realizzazione di una progettazione partecipata per la progettazione appunto di uno spazio verde retrostante la scuola Montessori a Fano è uno spazio piuttosto ampio e furono coinvolti allora due classi di scuola elementare che progettarono insieme a Paola che allora era una giovane architetta che si era prestata no soprattutto architetta poi eri anche giovane ovviamente perché sono passati 25 anni che si era prestata appunto a condurre un gruppo di bambini della scuola elementare per progettare lo spazio esterno alla scuola questa area verde che era praticamente non utilizzata comunque non attrezzata questo lavoro fu importante perché lo dico al sindaco esiste il progetto nell'archivio comunale non so nell'ufficio tecnico comunale dovrebbe esistere perché naturalmente il progetto fatto dai bambini realizzato anche con le forme che abbiamo visto nel video che sono stati fatti vedere prima e cioè di plastici fatti appunto dai bambini per mostrare come poteva essere appunto quello spazio verde organizzato e poi non fu realizzato per una ragione che è questa su quell'area passava e passa ancora una linea di alta tensione e siccome si pensava penso che sia vero questo cioè che il campo magnetico potesse essere nocivo per le persone che frequentavano potevano frequentare quello spazio non si fece nulla non si fece nulla addirittura addirittura si pensò se ti ricordi Paola di quando si si fece poi la parte tecnica del del progetto nel senso che fu affidata ai tecnici comunali la traduzione no della proposta fatta dai bambini con delle vere proprie carte tecniche no fu fatto fu rovesciato in qualche modo furono spostate alcune proposte che facevano gli uomini per evitare che i punti di sosta potessero fossero proprio sotto eh il campo magnetico di questa linea di alta tensione tenete conto quelli fra l'altro c'è anche una scuola dell'infancia c'è una scuola elementare che ecco è questo questo te lo voglio allora siccome si sotterrano io ti prego di tirar fuori quel progetto finanziarlo e di realizzarlo guarda c'è un aspetto secondo me importante su questa cosa che dovremmo considerare quei bambini che allora fecero il progetto oggi sono uomini e donne di 30-40 anni che hanno a loro volta probabilmente dei figli secondo me sarebbe una cosa di straordinaria importanza di straordinario rilievo se la città di Fano decidesse di realizzare oggi a distanza di tanto tempo quel progetto che corrisponde ancora adesso a quelle che sono le esigenze dei bambini ma rivisto insomma voglio dire quel progetto lì quel progetto lì è come i bambini anche di oggi possono immaginare la realizzazione di quello spazio verde e quindi secondo me va proprio ripreso e vanno richiamati anche quei uomini e quelle donne che erano bambini allora nel momento in cui progettarono quello spazio poi c'è un'altra cosa che voglio dire poi chiudo anche questo è un elemento di concretezza perché a Fano è stata realizzata proprio e inaugurata con l'inizio di questo anno scolastico una nuova scuola primaria che vedrà tra l'altro anche la realizzazione di una scuola dell'infanzia e mi pare di capire anche di un nido proprio nella stessa area viene fuori un complesso scolastico di estrema rilevanza fatto anche con degli accorgimenti di natura architettonica di architettura scolastica contemporanea di scuole innovative eccetera quello deve diventare un laboratorio per vedere come quella realtà scolastica le pertinenze di quella realtà scolastica possono essere organizzate secondo il punto di vista anche dei bambini del quartiere dei bambini che frequentano quella scuola eccetera per esempio lì si può attivare il progetto a scuola ci vado da solo bisogna assolutamente farlo bisogna quindi prendere e fare delle scelte coerenti con questa prospettiva ad esempio ti dico secondo me bisogna evitare di realizzare degli interventi che stimolino l'uso da parte dei genitori della macchina dell'automobile per portare a scuola i figli perché se tu lì fai una strada che praticamente collega la strada nazionale Flaminia con la scuola praticamente dice ai genitori potete tranquillamente portare i figli a scuola fin davanti al cancello della scuola con la macchina si tratta sostanzialmente di far diventare questa realtà lo dico agli amministratori quando si fanno queste cose bisogna pensarle bisogna pensarle bene fin dall'inizio se io voglio realizzare il progetto scuola ci vado da solo se voglio realizzare la progettazione partecipata una scuola nuova o anche una scuola che debba essere sottoposta ad un'operazione di rigenerazione di rigenerazione va pensato in questi termini per non fare scelte per non fare scelte anche di natura pratica che poi contrastano con l'obiettivo di realizzare il progetto scuola ci vado da solo o di realizzare la progettazione partecipata se in una scuola si deve realizzare si deve pensare uno spazio esterno è bene che su quello spazio esterno della scuola siano i bambini della scuola o del quartiere che siano stimolati a fare una progettazione partecipata per comprendere da loro come quello spazio possa essere organizzato secondo quelle che sono le esigenze della scuola e di gioco dei bambini stessi è un grande assente poi chiudo delle discussioni di questa mattina per esempio è stato proprio il rapporto con la scuola della città dei bambini con la scuola immaginate diciamo quanto possa essere utile ad una scuola adottare anche dal punto di vista didattico alle metodologie proprie della progettazione partecipata quando noi abbiamo fatto il progetto a un suolo ci vado da solo beh quel progetto lì non è stato portato nella scuola da qualcuno dall'esterno è stato progettato con i bambini e anche con le insegnanti di quelle classi che hanno immaginato come poter organizzare questa possibilità di andare a scuola da solo modificando l'ambiente intorno per far sì che l'ambiente intorno fosse non sfavorevole all'idea che i bambini possono andare a scuola da soli ecco quindi per dire che la città dei bambini è una risorsa notevole importante per tanti punti di vista perché possono modificare le città dei bambini i punti di vista degli adulti che governano quella realtà quella città quel territorio e anche perché può modificare laddove si fa un lavoro in questa direzione si coinvolge la scuola anche può modificare anche come dire la scuola stessa proporre una didattica innovativa su tutti i progetti che possono essere messi in piedi dalla dalla città dei bambini la scuola può dire la sua parola e soprattutto può farsi contaminare e può farsi trasformare dalle idee nuove che sono proprio del progetto la città delle bambine e dei bambini quindi questa è un'indicazione che do proprio ai amministratori locali che sono qui presenti grazie Fausto ricollegandomi a quello che ha detto vi racconto adesso un aneddoto recentissimo di qualche giorno fa ero a Lione ricevo un messaggio proprio di Fausto che io reputo all'interno dell'osservatorio e mi fa notare che in questa scuola aveva visto dei lavori in questa scuola e mi diceva come perdete l'occasione di fare una progettazione partecipata dei bambini visto che non ho scuola con tutto quello che è perfettamente mi ha girato delle foto al che fra l'altro ero proprio a fare la conferenza in una municipalità di Lione stavo raccontando al che mi sono messo al telefono ho chiamato arrabbiato l'assessore l'ho girato al dirigente qui ci riempiamo la bocca di cose poi non siamo coerenti sono gentile ho detto cose diverse nella conversazione e a quelli di Lione ho detto vedete questo è un fatto positivo perché significa che c'è comprensione e si sta crescendo in termini di fanno città delle bambine e delle bambine perché viene sollevato da un cittadino Fausto ha anche una sua storia però all'interno di un organico che abbiamo creato che è l'osservatorio e significa che c'è che c'è una sensibilità e ti pone il problema poi io mi arrabbio con me stesso perché ho la delega poi in realtà quei lavori in parte erano perché l'allaccio non funzionava dovevano sistemare una cosa ma c'era anche un pizzico di verità perché un piccolo pezzettino era già stato digiornato da un tecnico e lì vuol dire che qualcosa non ha funzionato ce lo dobbiamo dire lo dico a Paola lo dico all'assessore e lo dico al dirigente perché abbiamo ruoli ma queste robe non devono sfuggire però ci sono gli anticorpi e è un sistema che funziona quindi lo leggo anche in termini positivi perché nel momento che ti viene sollevato che c'è un osservatorio c'è un'attenzione c'è una sensibilità non è il progetto del sindaco o di Paola o dell'assessore di Turi ma è della città o di una parte perché poi i passi sono ancora tanti passi da fare e ci tenevo a rimarcarlo questo elemento e gli ho spiegato quando si arriva a questo qua significa che sia un paese avanti Romina Pierantoni sindaco di Borgo Pace Allora una cosa veloce che è questa innanzitutto grazie perché queste sono quelle cose tra virgolette belle con la B maiuscola e molte volte quando vediamo la parola città noi che siamo piccoli paesi no ne siamo un po' rifrottari perché diciamo cosa centriamo noi con la città no e invece in realtà molte delle cose che sono state dette questa mattina io da una parte la ritrovo come valore aggiunto che forse i bambini di Fano diciamo prendiamolo come esempio potrebbero non avere magari invece i nostri bambini hanno però mi rendo anche conto di tante cose che magari i bambini di Fano hanno e i bambini magari di un paese non hanno allora la lancio là potrebbe essere che una costola della città delle bambine e dei bambini potrebbe essere anche il paese delle bambine e dei bambini perché dico questo prima quando il professor Tonucci parlava di quello che la regione poteva fare giustamente la regione cosa fa ti finanzia delle azioni siccome ad esempio il mio comune che oggi pomeriggio andrà in giunta per entrare nella vostra rete grazie alla vostra disponibilità non è che per capirci io voglio entrare nella rete perché passatemi questo termine fa figo dire sono anch'io nella rete mi piacerebbe esserci perché porto un valore aggiunto dentro il mio paese allora quando la regione andrà a pensare a come supportare queste reti non dovrebbe pensare solamente o meglio dovrebbe pensare a supportare i bambini delle città e perché no cercare di vedere anche quella dei paesi perché tanto una differenza c'è tanto più penso in un momento storico come questo in cui tante volte ci si riempie la bocca di dire ripopoliamo l'entroterro rifacciamo questo quindi una regione come le Marche che trova tante di queste situazioni sicuramente potrebbe essere un'idea naturalmente io non sono un'esperta perché vi seguo col cuore da molto tempo ma la competenza è una di quelle cose su cui lavoro da un punto di vista professionale quindi so che in questo ambito non è la mia quindi ve la lancio a voi pensando a questo grazie tante grazie Romina ci sono altri interventi se posso non so se sono collegato grazie sono Luciano Giulioni dell'osservatorio infanzia adolescenza di Montemarciano è un intervento soltanto per chiedere appunto alla città capofila ho capito bene che voi avete inserito addirittura nello statuto comunale questa identità di città sostenibile amica delle bambine e dei bambini adesso vi chiedo se anche nel bilancio e preventivo e preconstruttivo c'è proprio un capitolo di spesa una mission dedicata alle città sostenibili attività eccetera interventi perché purtroppo non avviene così nella città di Montemarciano dove troviamo tanta difficoltà a poi trovare a reperire quelle poche risorse che servono per attuare quelle iniziative che l'osservatorio e l'assessorante delle politiche giovanili mettono in atto perché intanto le trovate queste risorse sparse in tutta in tutti i capitoli di spesa che però è una dispersione non identifica assolutamente questo progetto di città sostenibile amica dei bambini degli adolescenti abbiamo fatto richiesta di partecipare alla formazione del bilancio partecipato eccetera abbiamo inoltratto le nostre proposte però la risposta è stata questa c'è sparso nel bilancio tutte queste piccole risorse voi le andrete a trovare vuol dire che non c'è assolutamente non è assolutamente passata l'identità di Montemarciano città sostenibile amica dei bambini delle bambine appartenente a una rete regionale ecco non so se ci potete dare qualche indicazione positiva riguardo grazie poi qui ci sono anche Teresa Giovannoni che è la PO si vuole dire qualcosa comunque la risposta è affermativa nel senso noi abbiamo dei capitoli destinati poi è anche vero che altre risorse si trovano anche in altri capitoli su alcune tematiche su alcuni progetti specifici però in ogni bilancio di previsione ci sono capitoli dedicati che sono in capo al sindaco in questo caso dedicati alla città delle bambine e dei bambini c'è una struttura anche di personale dedicata al al progetto perché ovviamente occorrono le persone e le risorse però mi dà uno stimolo e ne approfitto perché c'è anche la regione la rete può essere anche un'occasione di progettualità condivisa che possa reperire delle risorse può essere con la regione ma può essere anche con dei bandi che escono è vero perché molte volte ci sono dei limiti di abitanti noi su questo per esempio negli ultimi due bandi che abbiamo fra l'altro tutti e due finanziati le famose dove c'è tutto un percorso di interventi che facciamo lo abbiamo condiviso insieme al comune di Mondolfo il comune di Senigallia però questo può essere anche uno strumento per dire bene essono questi bandi possiamo ragionare perché poi sono a distanza perché non è che devono avere una continuità adesso in questo caso l'abbiamo fatto per comunità amministrativa ma possono seguire delle progettualità a scuola vado da solo qui c'è una serie di interventi nelle singole realtà e questo può essere un aiuto alle comuni alle realtà più piccoli dove magari non hanno un ufficio a progettazione come può avere Fano, Pesaro Ancona città che hanno che poi non siamo grandi neanche noi perché siamo poi paesoni alla fine però noi per esempio abbiamo comunque una struttura DOC per la progettazione per la progettazione europea posso dirvi che abbiamo preso un milione e otto per un progetto per la Fano Città dei bambini specifica internazionale con la macro regione dove stiamo facendo tutta una serie di attività importanti non sono tutti da spendere a Fano sono divisi in tante città europee però ecco c'è un valore aggiunto che la rete può dare oltre in termini di contenuti ma anche come strumento che possa facilitare e può essere anche uno stimolo poi per cercare delle risorse ma mi rendo conto che da parte della regione è più complicato perché poi le Marche sono comunque una piccola regione e anche nei budget è più difficile insinuarsi e dedicare risorse però ci sono i ministeri che hanno queste sensibilità dell'ambiente dell'ambiente di sempre quindi c'è del materiale quindi io la concepisco anche in questi termini e l'ultima cosa dico anche personalmente che come sindaco la massima disponibilità se volete anche nei vostri territori organizzate delle iniziative mirate perché alcune volte fare un'attività all'interno del comune può essere utile anche formativo con il proprio personale per una delle regioni che noi abbiamo fatto proprio con tutti i dirigenti in reale all'inizio obbligati perché erano perdo il tempo no poi in realtà ci si rende conto che non è una perda di tempo ma è una crescita è una sfida anche culturale come dicevo all'inizio non so se Teresa o Paolo avete aggiungere qualcosa ci ho risposto bene Francesco posso intervenire un momento sì sì ah grazie no volevo soltanto chiarire due cose uno si parla spesso di della rete delle città sostenibili amiche dei bambini e delle bambine che non è la stessa rete della città delle bambini e dei bambini sono due reti diverse hanno due origini diverse hanno anche due date di nascita diverse forse quello che non sanno molti è che la seconda quella del a misura città amiche dei bambini è nata dalla nostra rete quando io stavo seguendo l'esperienza di Rosario in Argentina e da lì è stata fatta la proposta a Unicef per assumerla come progetto questo era solo per chiarire un fatto storico e quando vorrete possiamo anche approfondire le ragioni ovviamente non ci sono conflitti c'è soltanto una diversità alcune attenzioni diverse invece la domanda che veniva fatta sul paese dei bambini è una domanda assolutamente legittima ma che ovviamente ha una risposta positiva noi abbiamo nella nostra rete città come Buenos Aires e Rosario città che superano i milioni di abitanti abbiamo lavorato a Roma e lavoriamo in paesi molto piccoli con pochi abitanti quindi il fatto della dimensione non è un impedimento è soltanto una spinta creativa a pensare a tradurre il progetto alle condizioni diverse che ovviamente vivono bambini e adulti nel paese rispetto alla piccola città rispetto alla metropoli applicare certi criteri anche per esempio di mobilità autonoma in una metropoli sembra impossibile ma anche questo invece è possibile è possibile per esempio rileggere una città grande che superi il milione di abitanti come una somma di quartieri che sono piccoli come un piccolo paese o come un paesone sul quale si possono applicare correttamente i criteri di autonomia e di mobilità autonoma dei cittadini e poi studiare la forma per i collegamenti fra i vari quartieri cioè è soltanto una direi una sfida creativa quella di pensare ci saranno alcune esigenze che in un paese molto piccolo per esempio scompaiono anche se temo che non sia vero come quella dell'autonomia dei bambini uno può dire no ma da noi ancora i bambini giocano per strada temo che questi paesi per piccoli che siano non ci siano più però se ci sono benissimo che ci siano però non vuol dire che per esempio il tema della partecipazione dei bambini venga garantita dalla dimensione piccola del paese che quindi era soltanto per dire che sì il paese dei bambini è una possibilità è una possibile rilettura o lettura del progetto che comunque va adattata all'ambiente anche se gli ambienti sono tutti della stessa dimensione ciascuno avrà le sue caratteristiche per cui bisogna fare un'operazione di traduzione e di adattamento grazie ovviamente nel libro che vi abbiamo regalato insomma che vi abbiamo messo a disposizione è un regalo che il comune vuol fare a tutti i partecipanti Frato e Francesco Tonucci con le sue vignette e sono vignette che ispirano devo dire alcune volte con una vignetta un disegno si trasmettono messaggi più incisivi di tante parole e messaggi che magari noi possiamo provare a trasmettere bene non vedo altre mani alzate mi rendo conto che sono già le 13 poi dovete anche rientrare tu Paola vuoi dire qualcosa? sicuramente che ci sentiremo presto insomma inizieremo subito questa fase di ricoll ricognizione generale sempre in contatto e in collaborazione con la regione mi dicono dalla regia che il video domani sarà online ci direi dopo dove magari io mando una mail a tutti i comuni della rete anche non sperando che si senta un po' meglio di quello che è successo qui in diretta perché era piuttosto saltellante va bene quindi a presto intanto auguri di buone feste a tutti e quello era proprio un regalo di Natale ringrazio anche io tutti i partecipanti rinnovo la disponibilità per qualsiasi iniziativa vogliate organizzare nei vostri singoli comuni e sicuramente ci sarà un nuovo appuntamento all'inizio anno nuovo a San Tepidio e Mare che è l'altro capofila così collaboriamo tra noi e ci alterniamo grazie al professor Francesco Tonucci io lo chiamo familiarmente Francesco e mi perdonerai se molte volte faccio uso le tue citazioni però cito la copyright però per noi è sempre stato un riferimento e un lume quindi sono state scritte apposta perché se ne approfitti esatto però ecco anche i testi sono stati sono un elemento importante che ci aiuta anche ad organizzarci meglio quindi grazie ancora e buon Natale a tutti perché tra una settimana è Natale ormai siamo veramente vicini e buone feste perché tanto sicuramente noi ci vedremo dopo nell'anno nuovo quindi dopo le festività buon Natale anche a te Francesco grazie anche a voi auguri grazie a tutti grazie a tutti